91. 91. Subordinate clauses. That. One. Frasi secondarie con che. Uno. Frasi secondarie con che. Uno. Forse domani il tempo sarà migliore. Come fa a saperlo? Spero che migliori. He will definitely come. Viene sicuramente. Are you sure? È sicuro? È sicuro? I know that he'll come. So che viene. He'll definitely call. Telefona sicuramente. Telefona sicuramente. Really? Veramente? Veramente? I believe that he'll call. Credo che telefoni. Credo che telefoni. The wine is definitely old. Il vino è certamente invecchiato. Il vino è certamente invecchiato. Do you know that for sure? Lo sa di sicuro? Lo sa di sicuro? I think that it is old. Suppongo che sia invecchiato. Suppongo che sia invecchiato. Il nostro titolare ha un bell'aspetto. Il nostro titolare ha un bell'aspetto. Do you think so? Lei trova? Lei trova? Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto. Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto. Il titolare ha certamente un'amica. Il titolare ha certamente un'amica. Do you really think so? Lo crede veramente? Lo crede veramente? E' molto probabile che abbia un'amica. E' molto probabile che abbia un'amica.